Andiamo a vedere allora concretamente Zotero, ma prima di andare a vedere specificamente Zotero, le dico solo che ci sono anche altre applicazioni, vediamo un po' ancora teoricamente che cosa si può fare e che cosa consiglio di fare con questo strumento, per esempio con Zotero o chi usa Mac Bookends o chi vorrà usare Citavi. Allora innanzitutto si tratta di gestire un database, per schedare i testi o meglio dovrei dire le fonti. Che cosa è un database? Database è uno strumento informatico, uno molto familiare è Excel, Excel non è altro che un database, che consiste nell'organizzare l'informazione in record e campi. In Excel una riga e un record. I vari campi sono le varie colonne. Questo è un database. fatto così, raccolta così l'informazione, qual è il vantaggio? Che io posso dire dammi solo quei record, quelle righe, dove nel campo cognome c'è Miranda e mi filtra e mi dà solo quelli, perché l'informazione è suddivisa in colonne, in campi. Bene, tutti questi strumenti informatici per la gestione della bibliografia sono dei database. Questo è importante. Per cui in questo caso ogni fonte sarà un record, un registro, una riga di Excel per intenderci e l'autore sarà un campo, anzi il cognome dell'autore sarà un campo, il nome dell'autore sarà un altro campo e così il titolo, la casa editrice eccetera eccetera. Per cui poi io potrò poi andare a cercare per un campo o per l'altro, ma potrò anche organizzare l'uscita, l'output dell'informazione come farà Zotero o Buchens in automatico, mettendo prima il campo iniziale del nome, poi il nome dell'autore, poi cognome eccetera eccetera. Va bene? Ok. Allora la prima cosa che possiamo fare con, d'ora in poi dico Zotero, voi capite con qualunque di questi strumenti, è schedare le fonti bibliografiche, fare le schede bibliografiche. Io quando ho iniziato le schede bibliografiche le facevamo a mano. La riferenza è che erano schede più piccoline, dove si metteva a mano cognome dell'autore, titolo eccetera eccetera. E avevamo il nostro bel schedario in ordine alfabetico, benissimo. Funzionava, non è morto nessuno, che io sappia. Però adesso abbiamo altri strumenti. Allora, prima schedare i testi, poi vedremo molto utile andare a cercare in internet dei testi, delle fonti e schedarli in automatico, senza dover scrivere tutto, che a volte è molto lungo. A volte ci sono articoli, per esempio, in ambito scientifico con 15 autori, tutti quelli che hanno collaborato alla ricerca, e autori cinesi, statunitensi, tedeschi. Devo stare attento a ogni lettera del nome, del cognome, eccetera eccetera. Bene, tutto questo, vedremo, me lo fa automaticamente Zotero. Poi, una volta che ho dei testi raccolti nel mio schedario in Zotero, posso andare a cercare, a ordinare, dammeli per ordine di, per esempio, di autore, il cognome, o per anno, o per rivista, eccetera. E dunque si gestisce molto facilmente l'informazione. Trovare dei testi. Io avevo una scheda bibliografica, ma non mi ricordo su che cosa, comunque era di il dottor Spagnolo. Cerco Spagnolo nel cognome, eccolo qua, questo è. Anziché andare, non so, se lo faccio a mano in Word, tutta questa operazione, devo aprire, andare a cercare questo in tutte le pagine, note a piedi pagine del mio testo, eccetera. Questo viene facilitato in maniera estrema con questi strumenti. Ma poi come utilizzare, questa è la gestione, ma come utilizziamo poi questo Zotero nel fare la tesi? Allora, innanzitutto io posso in qualunque momento esportare le fonti e anche stamparle. Supponiamo il docente mi dice, per favore, mandami la bibliografia che hai trovato per il paragrafo 2b. Oddio, mamma mia, come faccio? Se tu hai organizzato, come vedremo, con un'etichetta 2b, ti dici dammi solo quelli di 2b e vedremo adesso, faccio, tac, tac, ecco il professore l'elenco. Lo vedremo adesso nella pratica. Dunque, non solo ho i dati con i quali posso andare a cercare, ordinare, ma posso produrre un elenco bibliografico già formattato, come vedremo, per esempio per mandare al docente o per me stesso. Posso, come vedremo, citare direttamente una determinata fonte da Zotero o dagli altri programmi dentro il mio testo in maniera automatica. In maniera automatica significa soprattutto che la formattazione, quello che si chiama lo stile bibliografico, me la applica lo stesso strumento. Se io utilizzo lo stile Regina Apostolorum, che è quello che voi dovreste utilizzare, allora non devo preoccuparmi di mettere prima l'iniziale dell'autore, poi il cognome, poi una virgola, attenzione, una virgola, poi se un libro, corsivo, attenzione, corsivo, questo me lo fa Zotero, lo vedremo adesso. Poi in qualunque momento posso formattare il testo, le citazioni. Questo significa anche, per esempio, che io ho utilizzato nel fare la mia tesi lo stile Regina Apostolorum, ma poi voglio pubblicare un saggio a partire da un capitolo del mio libro in Paoline e Paoline, edizione Paoline, mi manda le norme per gli autori, perché una volta questo lo facevano le case editi, adesso non fanno più, adesso è l'autore che deve faticare per fare tutto questo. Allora mi mandano un bel po' di norme molto dettagliate, in quel caso magari l'anno va tra parentesi, poi due punti, oddio devo rifare tutto. No, applico lo stile Paoline, o se non ce lo posso modificare un esistente e applicarlo, lo applico di qua Zotero, senti bello mio, adesso mi ripassi tutto. Passa attraverso tutto il mio testo e mi riformata tutte le citazioni secondo lo stile Paoline. Per cui una cosa che avrebbe richiesto ore, magari anche 20-30 ore, lo fa in 5 minuti, 2 minuti, mentre lui passa attraverso il testo. Ok? Questo tra l'altro dà anche una grande libertà, perché adesso non mi preoccupo più di tanto, magari sto utilizzando lo stile Chicago, che è uno dei più noti, non importa, prima di stampare, mi ricordo di utilizzare Regina Apostolorum, mi riformata tutto e lo stampo. posso anche generare automaticamente la bibliografia utilizzata nella tesi. Immaginate che cosa significa farlo a mano. Dovrei andare a vedere ogni citazione, andare alla fine della tesi, mettere bibliografia finale e quantomeno copiare e incollare ogni testo. Non solo, ma durante, stile Regina Apostolorum, nella citazione a piedi pagina si chiede di mettere iniziale del autore, poi cognome, eccetera. La bibliografia no, la bibliografia deve avere prima il cognome e poi il nome, perché va ordinato per... Io dovrei adesso rifare tutto, cioè riscrivere tutta la bibliografia magari di 200 fonti? No, non c'è bisogno. Io gli dirò a Sotero, senti, fammi la bibliografia e lui ripassa tutto il testo, vede tutte le fonti che io ho citato a notare a piedi pagina e mi mette la bibliografia dove si trova il cursore, già tutta formattata secondo lo stile Regina Apostolorum nella formattazione adeguata per la bibliografia finale. Se poi decido, ah ma ho inserito una nuova fonte, non ti preoccupare, rigeneri e di nuovo ti fa l'elenco e ti include la nuova fonte. Capite che questo cambia moltissimo. Chi ha, come nel mio caso, fatto, nel mio caso la tesina di licenza in filosofia, quella in teologia ha cominciato a usare il computer, perché erano già anni 87, ma quella in filosofia è la macchina da battere, carta carbone, tutto a mano. Allora perciò io dico sempre non utilizzare questi strumenti oggi per fare un lavoro accademico è peccato, secondo me anche grave, peccato grave, per perdere già di tempo inutile. E anche perché non solo è tempo, è anche precisione, perché se io inserisco bene, adesso vedremo i dati nei vari campi, tutto il resto lo fa lui. Non si dimentica di mettere la virgola o il corsivo o le virgolette quando si tratta del titolo di un articolo di rivista. Ok? Allora, andiamo a vedere queste cose nella pratica. Ecco, qui ho il mio bel Zotero, con pochi dati perché io non uso questo, uso Avendo Mac, uso Bookends. Però, ecco, qui ho una serie di testi per fare delle prove. domanda prima di continuare. Chi di voi ha installato Zotero? Alzate la mano per favore. E chi non l'ha fatto deve alzare le due perché se no gli sparo. Ok, allora, chi non l'ha installato? Come? Chi non l'ha fatto per favore lo faccia subito dopo la nostra sessione o nei prossimi giorni. A meno che non decidiate già da subito, se avete per esempio la Mac, di usare Bookends o se volete usare Citavi, allora scaricate quei programmi. Io consiglierei uno di questi tre. O Zotero, gratuito, disponibile per tutti, per tutte le piattaforme, con tutto accessibile anche online, eccetera. Oppure Citavi, per quella cosa di connettere schede di bibliografiche e schede di contenuto. Oppure chi ha la Mac, consiglio Bookends. Comunque, uno di questi, scaricatelo e cominciate ad utilizzarlo. Allora, dicevamo, la prima cosa... Ah no, seconda domanda che volevo fare. Oltre ad averlo scaricato, chi è riuscito a mettere un po' le mani, capire un po' come funziona, fare qualche scheda. Mano su. Don Giovanni. Ok Gianni. Benissimo, alcuni sì. Gli altri logicamente, se vi chiedo di installare Zotero o un altro programma, vi chiedo anche di cominciare ad usarlo, non di tenerlo lì congelato. Congelato. Va bene, cominciate subito. Anche se magari sbagliate, si impara così. Sì, prego, dimmi. Sì. Gli professori, una domanda. Io ho scaricato lo style Regina Postoloro, ma non capisco come andarlo a riprendere. Ho fatto l'eseguito nel programma, proprio non riesco a riprenderlo. Devo capire dove andare. Ok, lo vediamo subito allora. Sì. Allora, innanzitutto, vediamo là lo schermo. Questo è Zotero. Andiamo a vedere subito questa cosa. Come installare e usare uno stile determinato. Zotero viene già caricato con alcuni stili più classici, quello Chicago ed altri. Però c'è, dentro il deposito di Zotero, esiste quello Regina Postoloro, perché uno dei nostri docenti lo ha elaborato e l'ha caricato. Allora, come fare? Io vengo qua a proprietà o preferenze. Mi trovo con la versione di Zotero per Mac, per cui magari con Windows è un po' diverso, ma comunque andate, ieri l'ho visto con questo studente, c'è sempre preferenze. Andate lì, su preferenze, e vedete che c'è, se io mi trovassi per esempio qua, nella cartella generale, vado alla cartella citazioni, o in inglese site, ok? Questa qua. E mi presenta subito degli stili. Io ho già dentro Pontifica l'Ateneum Regina Apostolorum, che è il nostro stile. Se non lo avessi, che cosa devo fare? Vedete che qui mi dice Get, in inglese dice Get additional styles. Cioè vai a trovare altri stili rispetto a quelli che trovi qua di Harvard, eccetera. Allora che faccio io? Clicco su quel link e mi apre questa finestra, o simile in Windows, dove mi presenta un deposito di stili. Io, basta che cerchi per esempio, Regina Apostolorum, eccolo, me lo trova, clicco, qui mi dice un po' come è fatto lo stile, clicco, e mi scarica un file minimo, tipo chissimi byte, poi clicco doppio su quel file e si installa. Ok? E una volta che ce l'ho già dentro, come nel mio caso, basta che io venga qua, come dicevamo, preferenze, Zotero, preferenze, site, o citazioni, Pontifica la Feneo Regina Apostolorum, basta, l'ho già selezionato. Lui ha capito che questo è lo stile che voglio utilizzare. Dopodiché, chiudo tranquillamente. Un'altra cosa che vi consiglio di fare è questa, di venire, vedete, sono andato, Zotero, preferenze, site, e qui c'è Word Processors. Allora, intanto, in Word Processors, dovrebbe essere già collegato, Zotero, con Word. Cioè, Zotero sa che il Word Processor che io sto utilizzando, col quale si deve parlare, è Word. E Word sa che sto utilizzando Zotero. Va bene? Ora, quello che vi volevo invitare a fare è di, venite qua, stili, Word Processors, e qui vedete questa marca che magari voi trovate così. Vi invito a cliccare e selezionare Use Classic Ad Citation Dialogue. Cioè, utilizza la finestra di dialogo per le citazioni classica. Che cosa significa? se non ho selezionato questa opzione, lui mi presenta quando, come adesso andremo a vedere, vado su Word, da lì dico nuova citazione, mi apre Zotero, ma mi apre una finestra con una sola riga dove posso scrivere un titolo, un autore, invio e mi inserisce come vedremo la citazione. Ma con la visione classica non mi presenta solo quella finestra con un solo campo, ma mi presenta un dialogo, un box di dialogo, dove mi permette di selezionare la fonte, ma anche, già che ci siamo, di indicare se è Confer o non Confer, il prefisso, lo vedremo poi, e di indicare anche le pagine nelle quali quella fonte dice quello che io in questa pagina del mio testo sto indicando, perché magari l'articolo è della pagina 50-60 di una rivista, ma io sto citando la pagina 55. Allora, in questo modo, nel momento in cui andrò ad inserire la fonte bibliografica dentro Word, indicherò anche la pagina o le pagine da A in cui si dice quello che sto citando, per cui è già dentro, non devo poi andare a inserire questo, in modo che in questo caso rimane già collegata la citazione. Se io cambio tutto, mi cambia anche, mi porta anche le pagine perché si trovano dentro il pacchetto della citazione. Adesso lo vedremo nella pratica. Comunque, vi consiglio di, ripeto, venire Zotero, Preferenze, Site, Word Processor e selezionare questa opzione qua. Va bene? Ok. Allora, andiamo a fare prima di tutto a vedere perché è molto utile utilizzare Zotero e gli altri programmi. E poi vediamo come utilizzarlo. Allora, io vado a un mio testo in Word. Ok. Mi trovo qua. E scrivo come dice sgreccia, testo di sgreccia, eccetera, eccetera. E qui voglio inserire un riferimento bibliografico in nota piede pagina. Allora, io devo trovare qua questa, adesso magari risolviamo anche questo, devo trovare questa questa voce di menu Zotero. La vedete? Adesso ci fanno vedere... Oh, oh, scusate, sì, sì, sì. Scusate, sì. Qui sopra se ho installato e magari dobbiamo andare a vedere anche questo il plugin di Zotero in modo che Word sa che sto lavorando con Zotero dentro Word mi trovo questo 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 menu Zotero se non lo avete perché non aveste installato il plugin e allora magari poi vediamo come fare. Allora, prima vediamo come funziona. Io qui dicevo voglio andare a pescare una scheda bibliografica che ho registrato su Zotero per utilizzarla qua in una citazione in nota per i pagina e allora vengo apro qui Zotero ok e vedete che qui a sinistra mi presenta alcune icone la prima dice aggiunge o edita una citazione è quella che ci interessa adesso poi ci sono altre per la bibliografia finale per fare refresh che mi rilega tutto il testo per aggiornarlo eccetera allora a me adesso interessa aggiungere una citazione per cui clicco sul primo bottone in alto a destra e siccome ho marcata la visione classica ah no no scusate dato che la prima volta che sto facendo questa operazione in un documento nuovo mi dice la prima cosa mi dice quale stile vuoi utilizzare trovo gli stili che ho tra cui regina apostolorum dico va bene quello la lingua posso lasciare italiano o cambiare alla lingua in cui io scrivo la tesi e le altre cose vi consiglio di lasciarle come stanno confermo e lui dice ok ho capito tu vuoi utilizzare in questo documento lo stile regina apostolorum e mi presenta questa finestra di dialogo che lui chiama classica vado a cercare una fonte per esempio per autore vediamo se ho qualche cosa di sgreccia sì ecco sgreccia manuale di bioetica volume 2 lo trovo ma dico già che ci siamo voglio anche inserire la pagina perché io adesso in questo mio nella mia tesi sto citando sgreccia che dice questo a pagina 50 ok allora mi metto qui dove dice page non cambio questo non ci interessa normalmente ci interessa solo page e scrivo un bel 50 confermo e che cosa ha fatto Zotero sopra vedete mi ha messo il numeretto 1 perché lui stesso ha creato una prima nota a piedi pagina vado giù e mi trovo il la citazione del testo dove vedo e punto io avevo scritto Elio in Zotero ma lui sa che con il regina lo stile regina apostolò non basta mettere la sigla ha messo e punto sgreccia sgreccia l'ha messo in maiuscoletto vedete le lettere la lettera prima più grande le altre più piccole ma tutte in stilo maiuscola come chiede lo stile regina apostolò se io dovessi fare questa mano dovevi andare me lo fa lui virgola corsivo titolo perché corsivo perché lui sa che si tratta di un libro nel regina apostolò il libro va trattato così virgola casa editrice Milano anno di pubblicazione e poi dice quarta edizione in piccolo alto non dovrebbe dire edizione credo che quello è per come è stato inserito la cosa virgola 50 perché perché ho indicato nel box di dialogo che era la pagina 50 me l'ha fatto tutto lui me l'ha formattato tutto lui adesso vengo qua e vado a inserire un'altra ops bene scusate un'altra fonte un'altra fonte di tizio che cosa devo fare di nuovo bottone in alto a sinistra aggiungi citazione mi apre la finestra classica sì scusate che adesso nella mac mi ha chiesto ok mi chiede qual è la fonte che vuoi citare mettiamo questa e qui magari dico che questa è da pagina 23 a pagina 24 perché sto parafrasando ma voglio anche dire in questo caso confer perché voi sapete ed è importante tenerlo presente una delle cose che l'occhio del revisore va a vedere quando io cito una fonte letteralmente tra virgolette tra virgolette sgreccia dice due punti l'uomo è un animale razionale chiudi virgolette non devo mettere confer metterò solo sgreccia ma non le bioete pagina 50 se invece sto commentando riassumendo eccetera allora devo mettere confer o cfr punto o cf punto in maniera coerente scelgo l'uno o l'altro e non una volta cf l'altra volta cfr normalmente usiamo in italiano cfr confer che significa confronta cioè gli dico io gli sto dicendo al lettore guarda sgreccia dice che non lo metto tra virgolette ma secondo sgreccia l'uomo è un essere razionale così così cosa io dico se vuoi andare a controllare se è vero che sgreccia lo dice confer cioè confronta il testo in queste pagine allora con sotero io utilizzo il campo prefisso per inserire il confer metto cfr punto adesso clicco su ok e che cosa ha fatto mi ha inserito la fonte e vedete che mi ha messo prima confer poi tutti i dati del libro e le pagine 23 a 24 e questo è un'unità vedete che se clicco tratta tutto questo come un blocco e dunque sia il confer che le pagine sono già dentro quel blocco lì va bene poi io logicamente mi mette anche il punto per non farmi lavorare perché sa che sono molto pigro sotero mi chiude anche con un punto a volte magari poi non mi interessa allora preferisco mettere un punto e virgola un'altra cosa eccetera eccetera ma lui me lo mette benissimo adesso vado ad inserire una terza fonte e dunque di nuovo add edit mi apre la finestra supponiamo che fosse adesso vado a fare così di nuovo sgreccia questa volta parafrasando e questa volta dalle pagine 55 a 56 ok e allora vediamo cosa fa zotero qui ci metto magari un bel punto vado giù e che cosa ha fatto zotero guardate la prima volta nota 1 ha messo tutta la tutti gli elementi bibliografici per esteso poi ha messo la seconda nota ugualmente per la seconda fonte ma la terza nota ha messo quello che si chiama citazione abbreviata perché ha visto che ho già citato quella stessa fonte in precedenza e dunque non mi mette la casa editrice città eccetera mi mette solo l'autore il titolo e le pagine perché le ho indicate io adesso adesso andiamo a fare un altro sperimento di nuovo questa è la quarta fonte e vediamo di mettere di nuovo la stessa fonte proprio la stessa cioè manuale di bioetica 2 e qui diciamo che è a pagina 153 senza coffer perché sto citando letteralmente faccio così e che cosa mi fa zotero mi mette i bid perché vede che non solo l'ho citato prima ma è la citazione immediatamente anteriore e dunque nello stile regina apostolorum se cito una fonte e poi esattamente la stessa fonte non metto tutti i dati che magari tante volte sgrecciamano le bioetica sgrecciamano le bioetica no mi mette i bid i bid i bid e le pagine che io indico ora cosa succede se io tra a un certo punto dico ma in realtà qui cambia un po' le cose e qui metto una un'altra fonte perché ho cambiato un po' voglio aggiungere qualche cosa e vengo qui mi apre la finestra e cito un'altra per esempio questa qua e dico che questa pagina 53 e allora che cosa fa zotero non mi ha messo più i bid perché vede che adesso la nota 5 sgreccia non è immediatamente susseguente all'altro sgreccia e dunque non deve mettere i bid ma la forma abbreviata e il bello di questo è che se io poi decido di cambiare e prendo questo paragrafo qua e decido di mandarlo all'introduzione taglio e incollo zotero mi raggiusterà tutto per cui la prima volta la citerà per stesso dato che si trova per la prima volta quella citazione la citerà completa e le altre invece dove magari prima aveva messo i bid adesso non mette più i bid ma la forma abbreviata dunque io ho totale libertà di cambiare le cose non devo stare aspetto un momento mi sembra che questo l'avevo già citato dove l'ho citato allora devo dire i bid o devo dire la forma abbreviata se però ho cambiato il paragrafo allora devo riaggiustare tutto non devo riaggiustare tutto se ne occupa zotero e adesso andiamo a vedere un'altra cosa come dicevamo se io cambiasse cambiassi lo stile zotero lo aggiusta per esempio andiamo a fare così come faccio adesso però forse questo sì esatto ho cliccato su preferenze del documento mi trovo qua scusate preferenze del documento dentro i bottoni di zotero clicco e mi dice tra le altre cose puoi cambiare lo stile andiamo a mettere il classico Chicago questa lo scelgo vengo su Word le citazioni sono ancora con lo stile Regina Apostolorum ma me le sta cambiando vedete che ha messo sgreccia manuale di bioetica non e punto sgreccia non mi mi mette Chicago fatto così non mi mette la casa editrice la città perché lo stile Chicago è così non solo ma sopra vabbè sopra me l'ha lasciato così ma in alto stile quello che fa mi mette sopra tra parentesi autore anno come si usa soprattutto in ambito scientifico io adesso io adesso però dico no no panico io devo usare Regina Apostolorum tranquilli document preferences Regina Apostolorum ok e mi rimette tutto a posto cioè me lo rimette tutto secondo Regina Apostolorum per cui ripeto dopo vuoi pubblicare la tua tesi con le paoline vedi le norme applica lo stile paoline e te lo fa tutto adesso un'altra cosa dicevamo è creare la bibliografia finale vado magari faccio control invio per rompere pagina e metto bibliografia finale con un bel ops neretto benissimo e qui vorrei generare la bibliografia finale la bibliografia finale in base a che cosa in base alle fonti che ho realmente utilizzato nel testo e allora mi trovo queste fonti mi trovo questo testo vengo qui e dico aggiungi o edita bibliografia clicco vediamo se tutto funziona a dovere un attimino non so se devo cliccare nuovamente eccola ecco la mia bella bibliografia finale e vedete che qui io non devo stare a vedere che cosa ho citato lo vede lui secondo me lo me li mette mi mette prima il cognome e poi l'iniziatore del nome perché così va nella bibliografia non solo addirittura mi mette la formatazione quello che si chiama entrata francese in spagnolo perché così deve essere con un rientro la prima riga di ogni fonte bibliografica comincia al margine sinistro ma poi c'è un rientro ma l'ha fatto tutto lui allora da questo si deduce qualche cosa alcune cose che sono molto importanti che andiamo a commentare vediamo se mi sta funzionando qui no un attimino che si è spento l'ipad adesso devo riaprirlo ecco adesso ci siamo ecco tenendo presente queste utilità è molto importante lo sottolineo molto importante usare sempre Zotero o Buchense per inserire le citazioni non cadete adesso non si dice più non indurre in tentazione ma non cadete nella tentazione di dire vabbè ma questa mica perdo il tempo io metto Evangelion Vite numero 45 tranquillo la metto io a mano dentro una nota di pagina apro nuova nota di pagina Evangelion Vite 55 che cosa succede in questo modo che poi magari io ho citato Marx poi cito Evangelion Vite ma Evangelion Vite a Marx con Zotero Evangelion Vite a mano per non perdere tempo giusto poi cito di nuovo Marx e che cosa si trova il lettore si trova Marx poi si trova Giovanni Paolo II Evangelion Vite e poi dice I Bidem con la citazione di Marx cioè questa l'ha detto Giovanni Paolo II perché per lui la nota a piedi pagina la fonte bibliografica per Zotero Evangelion Vite non esiste perché non c'è il codice dentro Word della scheda corrispondente di Zotero non solo ma nella bibliografia finale non compare Evangelion Vite perché perché non ho inserito il codice perché non ho utilizzato Zotero per inserire quella citazione capite allora è molto importante andare piuttosto a fare una nuova scheda su Zotero anche se con quattro dati autore Giovanni Paolo II titolo Evangelion Vite o enciclica eccetera Evangelion Vite poi se è rigorosa la citazione dovrebbe essere Acta Apostolici Sedis o insegnamenti di Giovanni Paolo II fare la scheda e una volta fatta la scheda io la uso ogni volta che voglio inserire quella quella fonte in una nota a piedi pagina e così Zotero tratta in maniera corretta questa fonte insieme alle altre sia all'interno delle note a piedi pagina sa se è già stata citata se è i video e me lo mette nella bibliografia finale al suo posto allora mi raccomando lo sottolineo perché tante volte ho visto dice ma professore ma qui non mi compare una bibliografia vado a vedere è bello mio perché l'hai scritto a mano capisco che tu dici vabbè anziché fare una scheda ma alla fine la paghi questa pigrizia eh la paghi perché poi ti trovi con molti problemi non compare quella fonte non te la tratta adeguatamente eccetera stessa cosa per lo stesso motivo se io qui vedo un errore per esempio vedo il titolo che c'è un errore ortografico eccetera non vado mica a correggerlo qua a mano perché l'errore rimane in sotero e allora quando ripassa tutto mi ripresenta l'errore allora no vado a sotero apro sotero cerco quella fonte correggo l'errore che sia titolo quello che è e basta poi il sotero lo riaggiusterà stessa operazione non non cercate di abbreviare i tempi quei 20 secondi che ci vogliono per correggere l'errore lo faccio qua lo fai qua ma poi quando poi ti origina la cosa ricompare l'errore oppure nella bibliografia finale compare con l'errore è chiaro? allora queste sono volevo farvi vedere l'utilità la stessa dinamica la stessa logica si applica per le altre applicazioni funziona in modo qualche cosa diverso ma è la stessa cosa allora andiamo a vedere con sotero come gestire lo schedario il database allora ci sono sostanzialmente due possibilità una inserire la scheda a mano io ho un libro del quale non ho o per il quale non ho accesso online eccetera bene farò una scheda a mano e allora come farò? ecco questo è quello che vi chiedo di cominciare a fare subito perché quell'altra cosa di applicare se volete anzi ve lo consiglio anche di cominciare subito a giocare anche come avevo fatto adesso un momentino per vedere come funziona ma la prima cosa è cominciare a schedare le vostre belle fonti per il lavoro della tesi allora la prima cosa dicevamo a mano e allora qui in alto a sinistra ma può darsi che nella vostra versione di sotero cambia un pochettino ma non importa vedete che c'è un segno più un'icona di un più per aggiungere una nuova scheda che nel database dunque è un nuovo record clicco e mi dice che tipo di fonte vuoi registrare i tipi di fonti principali sono tre sono ci sono altri logicamente poi dipende magari una tesi magari molto specializzata citerà papiri del giordano o documenti video non lo so ma normalmente nel nostro lavoro in scienze umanistiche sono tre i tipi di fonti che utilizziamo uno libro un libro due articolo di una rivista pubblicato in una rivista scientifica tre capitolo di libro o non so se lo chiama in italiano mi pare paragrafo di libro in questo caso che cosa è si tratta di quei volumi che raccolgono testi di autori vari atti di un convegno eccetera e in quel caso bisogna citare l'autore del capitolo o paragrafo cioè di quella magari di quella conferenza nel congresso il titolo di quel paragrafo del capitolo poi i dati del volume casa editrice anno di pubblicazione questi corrispondono al volume e finalmente le pagine nelle quali quel paragrafo o capitolo si trova in quel volume per cui va registrato come paragrafo di libro allora io qui ce l'ho in inglese e mi dà queste opzioni poi ci sono tante altre ma vedete che se vengo qui su more mi dà tanto cioè video patente podcast tante cose che non utilizzeremo le principali sono libro book section cioè una parte di un libro ma attenti una parte di un libro quando sono autori vari se è il manuale di sgreccia il capitolo quinto non è un book section ok è un libro poi documenti documenti vari journal article articolo in una rivista scientifica questi sono i tre che uscirete il 90% o più dei casi poi anche qui newspaper article se cito un articolo non da una rivista scientifica accademica ma dal Corriere della Sera lo registro come newspaper e così se voi volete divertirvi vedete audio recording tante cose va bene allora in questo caso si tratta di un libro e allora io dico segno più book e che cosa succede che qui dove dice info mi presenta i campi ricordate dicevano database qui sto creando un nuovo record la famosa riga di excel con diversi campi le famose colonne lui ha già capito che gli ho detto che si tratta di un libro e mi mette il campo per il titolo dove io scrivo a mano aging and disability quello è il titolo se ci fosse vabbè no no va bene non scrivete in maiuscole perché da maiuscole non si può passare a minuscole viceversa sì automaticamente allora devo scrivere sto scrivendo bene adesso ok questo è il titolo se ci fosse un sottotitolo appunto è sottotitolo poi vi consiglio di abituarvi a passare tra i vari campi avanzare non sempre prendendo il mouse e andando lì che si perde tantissimo tempo e qualcuno è stato operato anche alla spalla per questo un nostro docente allora vi consiglio di utilizzare il ditino sinistro e il tasto tabulazione che questo tasto che trovate vediamo se riesco ecco qui a sinistra c'è sempre un tasto tabulazione dove sta? qua quello che crea un rientro quando stai scrivendo su word ok vedete come funziona questo io sto qua mi trovo nel campo titolo voglio andare al seguente campo tabulatore e si posiziona suo autore dove devo scrivere il cognome lo studente di ieri aveva uno dei problemi diceva ma non mi funziona eccetera perché a volte metteva cognome virgola iniziale del nome nello stesso campo poverino Zotero non può intuire che lui voleva dire che quello era l'iniziale del nome lo trattava come cognome allora qui va bene non lo so mettiamo tizio per non perdere tempo e tizio si chiama Carlo se avete il nome completo e dovreste averlo vi consiglio di inserirlo completo così avete l'informazione completa poi con lo stile reggito apostoloro metterà C punto ma voi mettete Carlo ok tra l'altro una volta che io inserisco un autore la seguente volta che scrivo Tizio lui mi consiglierà Tizio lo registra e me lo presenta per cui se ho scritto sgreccia che magari è sgreccia aspetta 2C appena comincia a scrivere anzi vediamolo se è così esatto metto metto S già mi da sgreccia faccio così mi dice sgreccia ok poi vado avanti anziché Carlo metto Elio tabulatore per andare avanti tabulatore 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 mi fa andare avanti voglio andare indietro posso sempre se sono molti anziché andare vado col con il mouse e clicco logicamente ma se quello appena è shift tabulatore il tasto maiuscole premo quello lo mantengo premuto e poi tabulatore e mi va indietro vedete tabulatore avanti maiuscola tabulatore indietro abstract non ci interessa series serie normalmente non ci interessa series number meno ancora volume per esempio nel caso di sgreccia dove il manuale sono due volumi se sto registrando il volume 1 metto un bel 1 romano di solito si usa il numero romano per questo oppure il volume 2 se si tratta di un libro unico come in questo caso senza volumi niente numero di volume di solito non si mette quanti volumi edizione attenzione anche qui quello di ieri che mi sta risultando molto utile oggi per ricordare delle cose che cosa aveva fatto aveva scritto la casa editrice in edizione no casa editrice e publisher in italiano mi pare che era editore allora in editore metto vita e pensiero supponiamo che sia quello vita e già me lo dà perché l'ho registrato precedentemente ok mentre edizione che cosa è edizione è il numero dell'edizione a partire dalla seconda cioè se è la prima edizione un'unica edizione o comunque la prima non metto niente se è la seconda o avanti allora supponiamo questa sia la terza edizione metto un 3 ed è quel numeretto che mi metterà in piccolo in altro in questo caso non c'è poi date se si tratta di un libro devo mettere solo l'anno mettiamo che questo sia 2020 l'anno di pubblicazione numero di pagine questo non si riporta nella tesi il numero di pagine di un libro però io vi consiglio di inserirlo per vostra informazione perché un giorno avrete tanti perché questo logicamente io ho cominciato a usare questi questi strumenti tanti anni fa per fare la tesi ma adesso lo uso per fare conferenze testi eccetera e mi trovo tutta la mia bibliografia per cui a un certo punto vedo su questa cosa tanti libri e mi mette 20 pagine ah questo è quel libretto lì quest'altro invece 500 ah questo è il volumone quello c'è un'informazione per me che non si usa ripeto non si mette nella bibliografia ma è un'informazione per me già che ci siamo io vedo qua e dico 288 ci metto un secondo a farlo language dipende io lo utilizzo per me perché perché a volte un studente mi chiede potrebbe darmi qualche suggerimento di testi su questa tematica che lingue leggi ma leggo inglese e italiano allora dico a Zotero o a Bookends dammi su questa tematica solo i libri che hanno come lingua and en e it è inutile che gli mando quelli in tedesco ok allora anche questa è un'informazione per me in questo caso metto en e basta così ISBN non è il caso di registrarlo short title questo è importante supponiamo che il titolo non sia questo ma sia aging undisibility in our time eccetera eccetera un titolo molto lungo allora ricordate che abbiamo visto che quando io ho già citato una fonte sgreccia la prima volta me lo mette tutto per esteso tutti i dati ma la seconda volta o terza volta mi mette a meno che non sia quella immediatamente prima dove mette un ibidem mi mette la forma abbreviata se io qui non metto un dove sta short title un short title allora lui mi metterà tutto il titolo se il titolo è breve va bene manuale di bioetica e la seconda volta manuale di bioetica ma se il titolo è molto lungo è proprio brutto avere una riga intera ripetuta 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 perché a volte citiamo tante volte anche di seguito la stessa fonte e allora che cosa faccio io vengo qui e dico qui voglio citare solo age and disability il resto non mi interessa per il la forma abbreviata lo incollo e via così quando lui userà la forma abbreviata andrà a pescare da questo campo non dal titolo principale url interessa solo se è una cosa da internet ma ne parleremo e tutto il resto delle cose le potete lasciare tranquillamente in pace non non dovete utilizzarle ora altri strumenti che abbiamo ho fatto la scheda io posso fare una nota già che ci siamo attenzione non mi riferisco ancora alle note alle schede di contenuto di cui parleremo la prossima volta ma una nota su questo libro per me allora vengo qui vedete che ho notes non c'è nessuna dico aggiungi e mi permette di scrivere qua una nota e di formattare minimamente qualche cosa ok dopodiché vedete che qui mi ha creato una nota legata alla fonte c'è la fonte e la sua nota torno qui un'altra cosa che mi offre Zotero e questa sia importante è tags o etichette non so come dice la versione in italiano qui accanto vedete info note tags o etichette clicco su etichette non c'è nessuna etichetta le etichette servono sostanzialmente in questo caso per due cose uno per mettere delle parole chiave interessanti perché magari nel titolo dice aging and disability ma ha delle pagine sul concetto di persona meravigliosa che io vorrei un giorno quando io sto lavorando alla tesi o a una conferenza e voglio qualche fonte che so che parlava avevo una cosa sulla persona ma siccome il titolo non ha la parola persona non lo trovo se cerco nel titolo e allora mi faccio una etichetta dove io vengo dico ad e metto per esempio persona ok e poi un'altra magari metto libertà siccome non ci vuole niente posso mettere tutto quello che voglio e poi metto volontà che cosa significa che quando è un domani andrò a cercare che cosa che quali fonti ho io nel mio schedario che parlano della persona anche se non c'è nel titolo mi trova questa perché ho creato l'etichetta e quando cerco qualche cosa su libertà me la trovo ugualmente allora diventa utilissimo magari non nell'immediato ma bisogna pensare un pochettino a futuro diventa utilissimo l'altra utilità dell'etichetta è quella della e con questo finiamo la ubicazione la collocazione di questa fonte possiamo dire la assegnazione di questa fonte nella mia tesi questo è finalizzato immediatamente al lavoro per la tesi cioè io dico questa fonte sarà molto utile per il capitolo 2 paragrafo b e vorrei un giorno poter dire quando il professore magari mi chiede dammi solo la bibliografia del capitolo 2 paragrafo b io posso dire a Zotero dammi solo quelle fonti dove io ho inserito come tag come etichetta per esempio io metto t per distinguere da altre etichette t di tesi poi 2b e mi dà solo quelle fonte bibliografiche allora allora metto qui t2b però potrebbe essere utile anche per t4a perché anche in quel capitolo potrebbe forse essere utile t4a e lo metto quando io vengo qui e dico vado a cercare posso dire a cercare in titolo eccetera eccetera no adesso vado a cercare in etichette e dico dammi i testi che hanno t2b ecco questi sono search me li ha trovati oppure qui dico ugualmente dico voglio cercare in tutti i campi includendo i tags metto t2b e mi filtra solo queste schede ok per cui questo piccolo lavoro uno di assegnare parole chiave che con la pratica viene sempre più rapidamente e di assegnare la assegnazione valga il gioco di parole alla parte che mi interessa è molto utile ultimissima cosa dicevo una delle cose che io posso fare con questo è creare a parte che posso ordinarlo per autore per titolo per casa editrice per anno per anno inverso prima i più recenti eccetera eccetera a parte questo posso estrarre subito una velografia magari non tutto perché ho 500 fonti 500 schede seleziono quelle di t2b eccetera supponiamo che fossero queste selezioni da qua a qua clicco qua e poi premo tasto di maiuscola e clicco qua e adesso che faccio control no scusate tasto destro del mouse e dice create bibliografie voglio creare la bibliografia fa così e mi dice quale stile vuoi utilizzare benissimo regino apostolorum come lo vuoi copiare lo vuoi creare un nuovo file no mettimilo sul clipboard sulla memoria del computer allora oppure lo salvo in un file in questo caso lo salvo sulla memoria del computer clicco ok e adesso dato che il docente mi sta chiedendo insistentemente questa bibliografia io magari qua creo un un nuovo documento e faccio incolla ecco la mia bella bibliografia già tutta formattata tutta ordinata semplicemente sono venuto qua ho selezionato i testi che voglio riportare nell'elenco bottone destro crea bibliografia salvano nel clipboard e lo incollo qui ho una mail e glielo mando al docente così dorme tranquillo lui e anch'io non mi rompi più va bene ok la prossima volta vedremo come si può andare a internet che è molto utile trovare dei libri degli articoli e schedarli automaticamente cioè sarà Zotero cliccherò su un bottone e Zotero mi creerà la scheda prenderà quello che si chiama tecnicamente i metadati cioè autore eccetera eccetera e mi riempirà tutta la scheda con tanto di abstracts eccetera con tutti i nomi eccetera 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 e non solo ma magari segnalo vado su Medline e su questo tema mi interessano questi dieci articoli li li leggo li segnalo dico a Zotero scaricami e mi crea dieci schede bibliografiche una per ogni per ogni titolo dove lì il pericolo è di di giocare un po' esagerare beh dato che lo fa lui allora cento schede perché allora diventa un eccesso di informazione che poi non mi aiuta devo veramente registrare le fonti che considero che siano interessanti per il mio lavoro e la prossima volta dopo aver visto queste ultime cose sulla gestione bibliografica passeremo a vedere la lettura delle fonti il seguente passaggio nel percorso con il lavoro con schede le schede di contenuto che io ritengo essenziale per un buon lavoro accademico bene c'era Maroon che voleva dirvi qualche cosa ma prima anche dottor Mucci lei voleva dire qualcosa vero? sì è possibile direi